Buongiorno, ben trovati appuntamento di mattino 6 di sabato 11. 12 febbraio, oggi ricorre il ricordo della Santa Vergine Maria di Lourdes, noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei nostri quotidiani, i giornali che troverete questa mattina in edicola. Partiamo come sempre dalle prime quattro edizioni del quotidiano Il Centro, iniziamo con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli trattati all'interno del giornale. Vedete in alto, spunta un debito da 235 mila euro, Pescara nel bilancio del Comune, le spese per i giochi del Mediterraneo. Poi ciac si muore la fiction delle polemiche perché è in preparazione, sarebbe in preparazione una fiction sulla tragedia di Enrico Piano. Ci sono ovviamente polemiche, soprattutto da parte dei familiari delle 29 vittime. Poi le notizie che riguardano Pescara e provincia, ma anche il resto dell'Abruzzo, si parte proprio da San Salvo, in questo caso ragazzo disabile umiliato dai bulli a scuola. Poi il caso della Sevel, pipì negata, scattano due denunce. E poi il nuovo call center, 200 posti di lavoro all'Aquila. In basso è scomparso lo scopritore di Marco Verratti, Bruno Gilberto Marasca. Scusate, ci ha lasciato a 74 anni questo tecnico delle formazioni giovanili dell'Arabona Manoppello, che tanti anni fa segnalò proprio al Pescara questo giovanissimo ragazzo, Marco Verratti, che oggi è diventato un campione che gioca nel Paris Saint-Germain. Altri titoli dal centro, i veleni di bussi, il forum H2O rivela di ossina come a Seveso. E poi l'allarme della Col di Retti, allevamenti olivetti, danni per 52 milioni, agricoltura in crisi dopo l'ondata di maltempo. Siamo all'edizione di Chieti del centro, cade dal tetto, muore imprenditore, tragedia in Romania, la vittima, il vastese di Totto, aveva 39 anni. E poi gli altri titoli, che sono in questo caso molto gli stessi, dell'edizione di Pescara, eccezione fatta per i titoli che sono a fondo pagina. Chieti si apre una voragine di 10 metri, paura in via Olivieri, finisce inghiottito un palo della filovia. E poi Lanciano, stop di 23 associazioni al corteo di Casa Pound, polemiche dunque nella città frentana. Siamo all'edizione di Teramo, arpa mazzette da 50 mila euro, il PM soldi all'ex direttore generale Valentini, dalla società GOMER, questo il titolo di apertura dell'edizione di Teramo del centro. Poi in basso, emergenza frane, sigilli ad un tratto dell'8-0. E poi per quanto riguarda gli sfollati del terremoto in città, a Teramo, superano la quota di 2.500. Siamo all'edizione dell'Aquila, del quotidiano Il Centro, 200 posti di lavoro all'Aquila, apre un call center nel Tecnopolo, ecco come candidarsi. E poi Avezzano, comune Asle, trattano per neurochirurgie. Poi in basso, confiscati 2 milioni a Ditella, processi appalti, la procura conferma i legami con i casalesi. Poi l'elezione del nuovo sindaco dell'Aquila, le amministrative che ovviamente monopolizzano la scena politica nel capoluogo di Regione, in centro-destra, ora spunta la candidatura di Liris. Abbiamo visto dunque le prime quattro pagine del quotidiano Il Centro, gli argomenti che poi ovviamente ritroveremo nel giornale, soprattutto nella seconda parte, quando parleremo anche di sport, perché domani ovviamente scendono in campo, come tutti sapete, le formazioni calcistiche della nostra regione, a partire dal Pescara, che sarà di scena allo stadio Grande Torino, per affrontare in terra piemontese la formazione Granata. Una settimana inutile sottolinearlo, davvero particolare per il Pescara, per quanto accaduto al Presidente Sebastiani con l'incendio delle sue due auto, a tal proposito le indagini sarebbero arrivare ad una svolta e per le prossime ore potrebbero esserci, a questo punto crediamo la prossima settimana, delle novità. Ma vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, disabile picchiato a scuola, San Salvo, studente di 16 anni portato in bagno, minacce con l'accendino, poi le botte, già sospesi i bulli che lo hanno aggredito, indagini per risalire a chi ha filmato la scena. Poi ne parlavamo proprio qualche istante fa, Pescara ha tentato a Sebastiani, in arrivo una raffica di arresti. E poi Rigopiano, non speculate sul dolore, i sopravvissuti, ne parlavamo anche in questo caso proprio qualche minuto fa, sopravvissuti contro la Fiction. E poi in alto, vasto imprenditore precipita dalla finestra in Romania, poi Teramo per il dirigente di Tua scatta l'accusa di corruzione. All'Aquila, terremoto, truffa dei funerali, processo verso la prescrizione. Poi l'articolo di spalla, Pescara ospita a Burjabar il mito del basket americano. E poi in basso l'ultimo titolo che riguarda la politica regionale, perché nel partito democratico, come a livello nazionale e anche a livello regionale, c'è vento di scissione. Allora abbiamo visto i titoli delle quattro edizioni del centro, della prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero e possiamo come sempre andare a vedere ora qualche pagina, le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola partiamo dal fatto quotidiano, si parla di politica, in alto con la vicenda Raggi, tutti con Raggi contro Feltri. E chi ha scritto le stesse cose, si parla del titolo di Libero di ieri, che tanto scalpore e tante polemiche sta suscitando. Poi a centro pagina, atto di guerra, il segretario del PD scatena l'offensiva contro Palazzo Chigi, Renzi a Padoan. Niente manovra. E dunque polemiche anche a livello di governo nel Partito Democratico. Ecco Libero, quanto chiasso per una patata bollente, pistola fumanti, torna Libero sul suo titolo, che ieri ha suscitato tante polemiche. E poi campionato di volgarità 5 Stelle, questo è l'altro titolo ad effetto di Libero, così i professionisti dell'insulto trattano le rivali politiche. E siamo al giornale, più che patata è patatrack, la Raggi affossa i grillini, anche il giornale torna sul titolo di Libero. Polemiche su un titolo, ma Grillo perde il 2,3%. Siamo alla verità, altro che Trump, la Merkel ci rimanda i suoi immigrati, e poi il club dei manettari si spacca sui soldi. Vedete questa foto. E poi tolta la tutela ai lavoratori precari. Proseguiamo, Corriere della Sera, Farnesina, due attacchi hacker, infettate anche le mail delle ambasciate, pista russa, ma il cremellino nega. Siamo al tempo, la patacca bollente, anche il tempo di Roma ovviamente parla della vicenda Raggi. Tutti controfeltri per il titolo sulla Raggi. E poi, mamma Rai che fai, la cacci dopo gli insulti alla Meloni, l'azienda Licensi, Asia Argento. Polemiche dunque anche in Rai. La Repubblica ultimatum dell'Unione Europea all'Italia. Bruxelles, manovra correttiva entro il 22 scontro nel PD. Renzi chiama Padoan. No a nuove tasse. La Farnesina, attaccata dagli hacker russi. Nel mirino le mail di Gentiloni. Mosca risponde. Nessuna prova. E poi la stampa di Torino. Il piano del governo su migranti e sicurezza. Più potere ai sindaci. E poi Renzi avverte Padoan non aumentare le tasse. E poi ancora lo sport, oltre la barriera dei 100. Allegri insegue il record. Domani con la sua Juve cerca il primato di successi. Ovvero 100 vittorie per l'ex giocatore del Pescara. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Messaggero di Roma. Sicurezza più poteri ai sindaci. E poi la Farnesina, spiata da hacker russi. Caccia ai dati rubati. Il mattino di Napoli. Città sicure più poteri ai sindaci. E poi in alto l'anticipo ieri di campionato in Serie A. Il Napoli fa feste. Adesso il Real. L'anticipo al venerdì per i campani che hanno battuto al San Paolo. il Genoa per 2 a 0. Anticipo che si è reso necessario perché martedì i campani affronteranno in Champions League il Real Madrid. L'unità migranti svolta su asili e rimpatri. E poi il gazzettino di Venezia. Migranti, asilo, veloce o rimpatrio. Stretta del governo sull'accoglienza. Esame dei ricorsi. Rapido e niente appello. Lavoro in attesa del verdetto. Il manifesto con questo titolo. I buttafuori. Meno garanzie per i richiedenti asilo. Rimpatri più veloci. E tempi di detenzione più lunghi. Siamo alla gazzetta del mezzogiorno. Web pirati russi su Gentiloni. Il governo fatto già noto. Ma il premier evitava di usare le mail. E poi Sanremo. Perché questa è la settimana dedicata alla canzone italiana. Albano torna a casa. Anche il barese K.O. E poi si parla in alto, proprio in chiave pugliese, di notizie locali. Bari in via Sparano. La campagna di Scavi. Siamo al secolo XIX. Sicurezza più forza ai sindaci. Allarme a Genoa. Oggi levante e blindato per il raduno della destra xenofoba. Andiamo ancora avanti. Avvenire. Il quotidiano della CEI. Uscita di sicurezza. Processi per l'asilo più veloci ma senza appello. Maggiori poteri ai sindaci. Con un daspo urbano. E dell'Avvenire era l'ultimo giornale nazionale che prendiamo in esame. A proposito di giornali nazionali possiamo a questo punto vedere, anche se poi di sport parleremo nella seconda parte, possiamo vedere i titoli, visto che stiamo parlando di quotidiani nazionali, i titoli dei tre giornali sportivi oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Milan vai con Deulofeu, il giocatore, il neo, rosso-nero, che ha deciso con una giocata eccezionale la gara di Bologna a vincere in nove a Bologna. Ci ha dato forza per il futuro, dice il giocatore spagnolo. In campo sono aggressivo. Dribbling e scatto. I miei pregi. A chi mi ispiro? Ronaldinho. Trasmetteva allegria e fantasia. In alto si parla del Napoli, avviso Real, battuto il Genoa, torna secondo in classifica. Prova generale, superata. Corriere dello Sport, Real, eccoci. Napoli 2-0 al Genoa, via l'operazione Madrid. In alto Juve-Inter senza fine, Marotta vuole Sanchez. E poi c'è un'intervista all'ex arbitro internazionale Agnolin che dice arbitrare. Significa essere soli. Infine, un'intervista a Nesta, ex giocatore difensore anche della Nazionale, che dice Lazio e Milan, un sogno, allenarle. Infine, tutto sport, i vostri insulti, la nostra forza, la Juve si ribella al fango, gettato dai rivali. E poi Zienischi più Jack e ora il Real, vittoria, come dicevamo, del Napoli nell'anticipo contro il Genoa. Possiamo dunque tornare ai quotidiani di casa nostra, dopo aver visto i titoli dei giornali nazionali che invece sono oggi in edicola. Possiamo ripartire dal centro. Avevamo visto le prime pagine delle quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo. Ora andiamo a vedere le pagine interne. Abruzzo Fiction, va in onda l'orrore. Torniamo su uno degli argomenti trattati in prima pagina. L'Avalanga, le 29 vittime di Rigopiano in quattro puntate, parenti indignati. Il produttore Pietro Valsecchi dice, ho sbagliato nei tempi con cui è stato comunicato il progetto, ma non nelle intenzioni. I protagonisti saranno i soccorritori eroi. Giampiero Parete, uno dei superstiti, se mi contattano non dico niente, possibilista. Gian Caterino, niente in contrario, purché sia un'opera rispettosa della verità. L'attore abruzzese Cristiani Anzante dice, scelta cinica, ma niente falsi moralismi. E poi sia la serie TV, ma nel rispetto delle famiglie. Dunque ci sono pareri ovviamente differenti su questa fiction che si preparerà proprio sulla tragedia del 18 gennaio scorso all'hotel Rigopiano di Farindola. E poi l'intervento, spettacolo macabro come il Titanic e la morte di Alfredino. Il regista e attore abruzzese Edoardo Oliva critico sulla scelta. La prossima fiction sarà sull'omicidio di Vasto e poi aiuti da tutta Italia per sostenere il piccolo Samuel senza genitori. E poi si torna proprio sui momenti precedenti la tragedia. L'ultimo WhatsApp di Stefano Feniello, una delle vittime, delle 29 vittime di questa sciagura. Non so se riusciremo a ripartire. Continuano tra l'altro le indagini, continua l'inchiesta della procura di Pescara. Abruzzo Violento, cambiamo argomento, restiamo nella nostra regione, ci spostiamo in provincia di Chieti a San Salvo. Ragazzo disabile umiliato dai bulli, due quindicenni lo filmano dopo il gavettone nel bagno della scuola. I prof delle Mattioli di San Salvo intervengono, immagini sequestrate. Poi parla lo psicologo Orfanelli che dice sono episodi in aumento, vanno fermati. E poi restiamo sempre in provincia di Chieti, ma per un'altra vicenda. L'operaio della Sevel, Pipine Gata, scattano due denunce. L'azienda chiede scusa ma non prende provvedimenti. Il legale del sindacato decide di andare avanti. E il caso finisce a Roma perché l'onorevole Gianni Melilla, di sinistra italiana, interroga il premier Gentiloni, proseguiamo, Abruzzo in crisi, allevamenti e oliveti, danni per 52 milioni, col diretti, dice, zootecnia e indotto rischiano di sparire senza interventi di sostegno. Lunedì a Basciano e Penne il presidente nazionale dell'Associazione Moncalvo. Dunque ultima ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'agricoltura abruzzese. E poi polemiche sul decreto terremoto, niente zona franca, prevista battaglia in aula. Andiamo ancora avanti, queste sono le pagine però di cronaca nazionale politica con lo scontro all'interno del governo fra Renzi e Padoan e poi le polemiche per il titolo di libero sulla Raggi. Noi torniamo a parlare delle vicende di casa nostra, torniamo a parlare d'Abruzzo, in questo caso da un'altra pagina del quotidiano Il Centro. L'Aquila assume nuovo call center da 200 posti di lavoro, la struttura si insedia nel tecnopolo regionale, al via le selezioni, ecco i requisiti richiesti e come fare per candidarsi. E poi imprese, negozi, turismo e cultura aumentano i fondi per il cratere del 2009. In basso, passeggeri aeroporto promosso, l'Istat dice, parliamo dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, crescita del 10% nel 2015 ma scattano i tagli dei controllori e arriva l'SOS alla Regione. Possiamo dunque passare alle pagine delle cronache provinciali e siamo sempre sul centro e partiamo dalla cronaca di Pescara per andare a vedere quali sono le altre notizie che riguardano proprio Pescara e provincia. Si parla di errore giudiziario, tre giorni d'inferno nel carcere brasiliano. Il calvario del commercialista arrestato per sfruttamento della prostituzione è assolto un anno e mezzo dopo. Adesso il mio nome dice deve tornare pulito. E poi storie a lieto fine che arriva da Pescara, separate dalla povertà, madre e figlia si ritrovano. E poi la cronaca, pestato dopo un litigio per la droga, grave 33enne ferito in Vialago di Capestrano. A Pescara e poi a spoltore incendiano l'auto rubata e fuggono. I cittadini fanno sfumare il furto in casa di una banda arrivata da fuori. E nel bilancio spunta la grana dei giochi del Mediterraneo. Mancano all'appello 235 mila euro per le spese dell'evento organizzato nel 2015. Parliamo dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Protesta del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale e i revisori dei conti congelano la copertura e chiedono verifiche. Forza Italia dice che servono più fondi per il sociale e poi le altre reazioni. Alessandrini, ora possiamo dare il via ai primi lavori. Allora noi possiamo andare a vedere invece il primo servizio per quanto riguarda l'edizione di oggi di mattino 6. Abbiamo visto dalle pagine del centro che è stato approvato il bilancio. Dunque andiamo a vedere come è andata nel servizio curato da Francesca Romana Testi. Il bilancio di previsione approvato per il comune di Pescara dopo l'appello giunto dal sindaco Alessandrini alla responsabilità pubblica si è concluso con 20 voti favorevoli e 3 contrari. Il documento che dà il via libera anche all'esecutività resta il rammarico della mancata approvazione lo scorso 31 gennaio che avrebbe dato subito accesso alla disponibilità di cassa per interventi necessari come ripristino e messa in sicurezza delle strade dopo i danni del maltempo. Intanto l'opposizione annuncia che le osservazioni fatte in merito alle voci di bilancio non congrue alle richieste potranno essere rivedute. L'approvazione di un bilancio che la stessa amministrazione definisce tecnico nel senso che rinvia a una fase successiva quando ci sarà a disposizione all'avanzo di amministrazione del 2016 le scelte definitive perché è sotto gli occhi di tutti che ci sono interi capitoli che sono stati azzerati e credo che nessuno possa sostenere la tesi che quei capitoli non debbano essere finanziati parliamo del sociale, delle fondazioni culturali e soprattutto dell'esigenza di mettere mano seriamente alla manutenzione delle strade che oggi rappresentano un vero e proprio percorso di guerra. Diciamo che oramai speriamo di essere arrivati quasi alla conclusione questo per il bene della città perché insomma approvare il bilancio anche se non l'abbiamo approvato il 31 di gennaio ma approvarlo entro la prima decada di febbraio è un atto che difficilmente viene portato a compimento entro questo periodo però permetterà all'amministrazione comunale di poter programmare i lavori per tutto l'anno e non lavorare più in dodicesimi quindi con grandi limitazioni da parte degli assessori competenti. Cambiamo argomento, restiamo sempre a Pescara dalle pagine del centro perché ieri si è tenuta una conferenza stampa a Palazzo di Città per presentare la festa per i nuovi nati festa e doni per i neonati ogni mese cerimonia in comune per i bimbi e le loro famiglie questa iniziativa che è stata presentata ieri dall'assessore alle politiche sociali Antonella Allegrino e alla sua prima edizione ma sono previste tante edizioni per dunque festeggiare i nuovi nati del comune di Pescara allora andiamo a vedere il servizio che è stato curato da Elisa Leuzzo Nasce qui al comune di Pescara un'iniziativa nuova rivolta ai bambini appena nati e alle famiglie di cosa si tratta? Si, si, tratta dell'iniziativa benvenuto ai nuovi nati che il comune di Pescara ha voluto in particolare attraverso il settore delle politiche sociali portare avanti incontrando mensilmente i nuovi nati con le loro famiglie in una cerimonia che oggi viene presentata ma che parte dal 14 febbraio prossimo e ogni mese sarà ripetuta per i nuovi nati del mese precedente con questa iniziativa vogliamo manifestare innanzitutto la nostra vicinanza alla comunità cittadina e in particolare ai nuclei familiari che vivono un momento così speciale e così particolare vogliamo anche prendere l'occasione per raccontare quali sono le iniziative che il comune di Pescara fa a favore della famiglia, a favore dei minori e a favore degli adulti che hanno a che fare con il mondo dei minori Per la valigetta donata ai primi nati e quindi alle famiglie in che consiste? La valigetta consiste in un kit completo di prodotti, prodotti di prima necessità appunto al neonato e soprattutto anche alla mamma e vogliamo donarlo naturalmente alla città abbiamo risposto presente alla richiesta della dottoressa e alla comunità intera della città di Pescara Questo è il servizio su questa iniziativa curata dal comune di Pescara restiamo sempre a Pescara dal centro è partita la pulizia delle spiagge, mezzi operatori di attiva al lavoro da giorni per rimuovere i detriti si inizia a pensare ovviamente in anticipo alla prossima stagione balneare e poi andando avanti l'intervento in via del circuito via l'ex consorzio agrario arriva il Conad, ieri la demolizione dei vecchi edifici abbandonati per far posto ad un supermercato e poi ecco la notizia della scomparsa di Gilberto Marasca lo scopritore di talenti, lo scopritore soprattutto di un grande talento del calcio mondiale Marco Verratti, il presidente del Manopelo Arabona, aveva 74 anni questa mattina si terranno i funerali il campione pescarese del Paris Saint Germain gli invia la sua maglia autografata se sono qui è merito tuo dunque anche ovviamente da parte della nostra redazione le condoglianze alla famiglia Marasca per la scomparsa di Gilberto proseguiamo i disagi dei cittadini ci spostiamo nel quartiere Zanni, Eternit, Bacinelle d'Acqua, Vita d'Inferno in un palazzo i condomini di via Tripoti 52 tramuffa, crepe e allagamenti nelle case Ater e poi ancora Pescara, veleni di bussi, diossina come a Seveso spunta un documento del 2015 il forum dell'acqua accusa l'acqua risulta inquinata fino a 80 metri nel sottosuolo siamo arrivati alla pagina di Montesilvano del Quotidiano Il Centro si parla dell'ex discarica di Villa Carmine bonifica mai fatta la collina di spazzatura ora rischia di venire giù rotto il telo di protezione la bomba a picco sul Saline torna un'emergenza il comune impegna 46 mila euro per mettere in sicurezza i rifiuti abbandonati poi differenziata due centri di raccolta sul lungomare e poi in basso nuova strada via Speri il comune promette lavori e poi le manifestazioni ieri per il ricordo della tragedia delle foibe noi abbiamo seguito con la nostra Elisa Leuzzo proprio la cerimonia che si è tenuta ieri mattina a Montesilvano e abbiamo ascoltato il primo cittadino di Montesilvano Francesco Maragno possiamo dunque vedere il servizio Sindaco nonostante questa giornata di pioggia l'importante è ricordare Sì è doveroso ricordare il 10 febbraio la giornata delle foibe tutte quelle persone che per decenni sono state dimenticate e che soltanto recentemente finalmente è stato riconosciuto il loro uccidio come sempre con le associazioni combattentistiche d'arma con i rappresentanti delle forze dell'ordine purtroppo non sono state presenti le scolaresche perché era un messaggio a loro destinato una giornata a loro destinata anche per consentirli di conoscere la storia non sono venute per il maltempo però stavo dicendo insieme agli intervenuti abbiamo celebrato questa giornata e abbiamo deposto come sempre la colonna di alloro per ricordare quanti oggi non ci sono più e sono stati oggetto e bersaglio davvero di un vero e proprio uccidio c'è un messaggio però che vuole rivolgere ai più giovani e quindi agli studenti beh certo quello di conoscere la storia affinché non si possano più ripetere in futuro gli errori che purtroppo ancora oggi ci portano a celebrare le giornate come queste rientriamo in studio ora possiamo fermarci per qualche istante vedere le previsioni del tempo per il weekend e poi torneremo per la seconda parte di mattino 6 rientriamo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara sempre sul centro Francavilla a casa arrivano le bollette di 20 anni fa pensionata denuncia la sua disavventura la società di riscossione le chiede il saldo di acqua e rifiuti del secolo scorso pagai tutto all'epoca dice la donna e poi proteste per la circonvalazione al buio la segnalazione degli automobilisti e poi a Cepagatti no ai market vicino al parco Santuccione la giunta si oppone all'insiedamento di due store per tutelare il piccolo commercio locale in basso a Francavilla i truffatori dello specchietto anche il sindaco Luciani dall'allarme poi Francavilla coppia di cucciole cerca nuovi padroni andiamo avanti siamo alla pagina di penne di Popoli e dell'alta Val Pescara dall'alto dalla parte alta della pagina siamo a penne Marconi lezioni a singhiozzo e crollo delle iscrizioni e poi penne boccia la convenzione per il sociale poi bussi sul tirino ricostruzione al lavoro senza stipendio la filca Cisle lancia l'allarme per il mancato pagamento da settembre di una decina di operai in basso a Torre dei Passeri concorso sulla Shoah premiati i ragazzi in tre vincono il viaggio studio nel campo di Auschwitz Birkenau proseguiamo siamo la pagina di Chieti e della provincia in questo caso siamo nel nel Vastese perché in queste ore sono momenti tragici per la scomparsa in Romania di un imprenditore molto conosciuto cade da un fabbricato la vittima è l'imprenditore Antonio Di Totto 39 anni titolare di una ditta era a Bucarest da alcuni mesi per lavoro e poi Chieti si apre una voragine profonda 10 metri paura in via Olivieri un palo del Firubus finisce inghiottito transito vietato e poi Lanciano no di 23 associazioni al corteo di Casa Pound Lanciano scoppia il caso sulla manifestazione in programma oggi per le vittime delle foibe siamo alla pagina dell'Aquila sempre dal centro processi appalti confiscati beni per 2 milioni a Ditella la procura confermata dice la loro pericolosità per la vicinanza al clan dei Casalesi che fa capo a Michele Zagaria e poi cronaca presso dei carabinieri attorno in parte l'autore di una rapina a Roma e poi guida drogata e va a speronare l'auto della volante della polizia giovane ricoverata in psichiatria e poi Avezzano in Cento per una simulazione di soccorso esercitazione con Asl Croce Rossa e Scuola Abruzzo 2020 ricordato anche il dottor Bucci pagina di Teramo dal centro l'inchiesta sulle gomme per i bus appalti Arpa mazzetta da 50 mila euro la procura indaga per corruzione l'attuale direttore della tua Valentini gli imprenditori dell'azienda Gomer e poi evasione fiscale chiesto il giudizio in aprire l'udienza preliminare ai massi viene contestata anche la truffa centro pagina scoperto dalla guardia di finanza oleodotto fantasma a Piacenza denunciato un teramano e poi notaresco ha il tetto di casa sfondato dalla neve e non può riparrarlo perché nessuno autorizza i lavori siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo ovviamente passare al messaggero e poi al quotidiano la città ripartiamo dal messaggero seconda pagina di cronaca d'Abruzzo si parla di politica andiamo in casa del partito democratico perché nasce il comitato per la scissione Rapino segretario regionale dice fase difficile costituito il gruppo D'Alemiano che fa capo a Pina Fasciani asse Emiliano D'Alessandro Paolucci con Orlando e Orfini e poi calamità costruire la rete del rischio gli enti ripartono da social e whatsapp e poi tre orsi in gabbia liberati nel parco lupo ucciso almeno 40 sono gli animali da tutelare Pescara via del circuito pronta per la nuova vita demolito il vecchio edificio del consorzio agrario l'arrivo di un supermercato non spaventa residenti e commercianti e poi in basso 24 ore di pioggia e la città finisce sott'acqua e non è sicuramente una novità per Pescara copertura delle buche sociale scuole sicure le priorità del nuovo bilancio di libera approvata con i soli voti della maggioranza subito interventi per fronteggiare le emergenze del dopo maltempo e poi insulti e politica il sindaco offeso fa bene a querelare si parla degli insulti al sindaco di Pescara Marco Alessandrini insulti attraverso Facebook con le querele partite proprio dal primo cittadino e poi protesta per l'eroina scadente pestato a sangue vittima a un romeno residente a Chieti e poi in basso da ciclostile giornale da 3.000 copie la storia rampante di presenza popolare c'è questo articolo che ci riporta indietro quando c'era ancora la democrazia cristiana e poi speculano sul dolore no alla fiction anche sul messaggero si parla della fiction che si preparerà per la tragedia di Farindola di Rigopiano sopravvissuti e parenti delle vittime contro il progetto annunciato dal produttore Pietro Valsecchi poi bomba ecologica bussi livelli record di cancerogeni e poi tornando alla tragedia di Rigopiano un whatsapp svela l'ora della valanga le 16.48 a quell'ora Stefano Feniello scrisse agli amici ma mai notificata la risposta di un minuto dopo e poi in basso la cronaca distribuisce merendine ai pazienti dopo il furto al bar dell'ospedale ladro generoso e poi il giallo a fuoco l'auto dei ladri dopo il ride a Cavaticchi di Sportore è accaduto due notti fa siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero commercio slitta il bando per i fondi del centro storico e poi sede Ana Sabari il no di Barattelli e Pezzopane e poi l'avvertenza commessa col center Inps dalla gara escluso il costo per il personale in basso Casalesi negli appalti del sisma confiscati beni per 2 milioni e poi la cronaca politica in questo caso Forza Italia ora prova a spingere l'Iris alcuni consiglieri comunali hanno chiesto al vice coordinatore regionale di scendere in campo in vista delle prossime amministrative ancora pagina dell'Aquila dal messaggero funerali solenni rischio prescrizione per carenza di giudici è saltata l'udienza prevista ieri nuovo slittamento i primi di ottobre il tempo stringe e poi andiamo a centro pagina ponte di Belvedere un altro suicidio l'ennesima tragedia accaduta nelle ultime ore poi trentenne in pigiama fa la matta per una notte va a speronare anche una macchina della polizia ricoverata in psichiatria e poi Pretto torna sul podio della Sinfonica infine il Sei Nazioni al Fattori torna a tingersi d'Azzurro la città per la prima volta ospita una tra le competizioni più importanti al mondo parliamo ovviamente di rugby pagina di Avezzano Sulmona in quattro incappucciati che paura il resoconto dell'avvocato Giampaolo Ciocci che con la moglie è stato sequestrato e picchiato in casa da una banda di ladri siamo ad Avezzano poi Sulmona Trasporti consiglio comunale straordinario convocato proprio per parlare della problematica riguardante i trasporti e poi a Sante Marie ingerisce disserbanti gravissimo un giovane romeno e poi Sulmona vigilessa trasferita tutti prosciolti Roccaraso ambito caccia ci sentiamo diffamati e poi tornando ad Avezzano casolare in fiamma in fiamme scusate in via Teramo ci sono le indagini infine sanità neurochirurgia nasce un altro comitato proseguiamo sempre dal messaggero ci spostiamo alla pagina che riguarda Chieti cede la fogna si apre voragine sfiorato il dramma in pieno centro e poi torna la truffa del finto incidente anziana perde 6.000 euro e poi marito condannato per violenza le lo perdona davanti al giudice poi musica classica swing e jazz al marruccino ieri è stato presentato il cartellone vi abbiamo proposto anche un servizio nel corso delle nostre edizioni del TG6 siamo alla pagina di Lanciano Vastortona disabile picchiato e filmato a scuola grave episodio di bullismo avvenuto all'istituto superiore Mattioli 16 anni portato in bagno minacce con l'accendino poi le botte sul posto 118 e carabinieri la scena ripresa con gli smartphone il video circola sulle chat di whatsapp si indaga su chi lo ha offeso poi Lanciano tabaccheria d'Orsogna vincita da 92 mila euro ad Ortona polizia stradale a rischio l'allarme dei 5 stelle e poi spostandoci a Vasto anche sul messaggero si parla di questa tragedia dell'imprenditore Vastese Antonio Di Totto morto in Romania e comunque giallo ci sono le indagini sarebbe precipitato dal quarto piano di un edificio si parla di un incidente ma potrebbe anche non essere così e poi a Tessa Bagno Negato il caso Sevel arriva al Ministro e poi Lanciano ancora Civitanova e Sacca ecco i progetti siamo la pagina di Teramo e della provincia partiamo dal capoluogo Noè Lucidi slitta la riapertura gli studenti divisi in tre scuole e poi Sanità Asli capi dipartimento sì all'ospedale unico e poi a Sanremo I Love Teramo la moglie di Ivan Graziani ricorda la città sicurezza frana sequestrato il muro di contenimento parliamo di Teramo delle problematiche in città e in periferia dopo il maltempo e le numerose frane e gli smottamenti che sono avvenuti in diverse zone poi i nodi del centro il mercato tornano i furgoni lungo il centrale Corso San Giorgio siamo alla pagina di Giulianova di Roseto e della Val Vibrata scandalo forniture l'accusa e corruzione si parla dell'inchiesta con il dirigente tecnico di Tua Michele Valentini indagato per il periodo in cui era direttore generale dell'ARPA la procura sostiene che avrebbe ricevuto 50 mila euro per velocizzare il pagamento di fatture ad un'azienda e poi Martinsicuro tenta delle avance con la ex moglie è stato arrestato e poi Giulianova amministratori di NCD un'assemblea positiva dicono dopo questo incontro che si è tenuto nelle ultime ore ancora Giulianova sicurezza alla bell'occhio i genitori chiedono verifiche polemiche del Movimento 5 Stelle per l'intervista del sindaco Mastro Mauro all'inviata delle Iene e poi a Roseto degli Abruzzi Provincia e Nugnes il vice presidente tornando ancora Giulianova raccolta di firme dopo gli allagamenti tra i residenti di alcuni quartieri siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ancora attendere per parlare di sport perché dobbiamo andare a vedere le pagine del quotidiano la provincia di Teramo e poi nell'ultima parte nell'ultimissima parte di mattino 6 come sempre ci dedicheremo allo sport vediamo la città la prima pagina l'8.0 scattato il sequestro la stradale mette i sigilli al muraglione travolto dalla frana di mezzanotte nessun indagato e poi la costa sott'acqua vedete questa foto questa immagine con un sottopasso chiuso con una macchina ricoperta per metà dall'acqua siamo alla pagina dell'Abruzzo Masterplan la regione precisa ma l'intoppo resta per il momento nemmeno un euro di anticipo ai soggetti attuatori dei progetti contenuti nel piano poi in basso trasporto pubblico Dezio verso la tua al posto del dimissionario d'amico il fedelissimo di D'Alfonso potrebbe però incappare con una incompatibilità dunque è partita la corsa per la nuova presidenza della società unica di trasporti e poi l'appello Teramo faccia sentire la sua voce a Roma il presidente merito della regione Gianni Chiodi rilancia l'appello al di là dell'appartenenza politica per salvare la città a fondo pagina col diretti protesta davanti al salumificio crollato lunedì agricoltori allevatori scenderanno in piazza per denunciare una serie di produzioni tipiche che sarebbero a rischio e siamo a Teramo crollo dell'8.0 scatta il sequestro la procura mette i sigilli al muro travolto dalla frana di mezzanotte per ora l'inchiesta resta contro i gnoti e poi il lutto da anni combatteva contro la SLA addio a Forlini uno dei padri della Coppa Interamnia e siamo ancora alla cronaca di Teramo polo scolastico allo stadio quello vecchio la lista civica Dalmata sonda il terreno per realizzare un secondo oltre all'acqua viva in zona San Giuseppe e poi dopo l'emergenza rilancio del sistema economico locale ecco la ricetta della Camera di Commercio ospedale unico impensabile fuori da Teramo per l'associazione Big Bang la definizione di baricentrico farima con capoluogo ma non con la geografia e poi la notizia luttuosa che arriva sempre da Teramo 55enne romeno stroncato da un infarto nel sottopasso in piazza Garibaldi andiamo ancora avanti siamo alla pagina della provincia di Teramo la costa teramana finisce di nuovo sott'acqua difficoltà lungo le strade sottopassi interi quartieri inondati dalla pioggia fumi sotto stretta osservazione e poi la viabilità ci risiamo tre strade provinciali in base dalle frane nel bellantese e poi rubavano il petrolio all'oleodotto dell'eni organizzazione criminale sgominata dalla guardia di finanza anche un rosetano nei guai a Piacenza gomme d'oro gommer sotto inchiesta per corruzione i vertici societari avrebbero consegnato 50 mila euro all'ex direttore generale dell'ARPA per ottenere il pagamento delle fatture e l'accusa nei confronti di Enrico e Francesco Massi e del dirigente ATAC Monticchio questo quanto si legge in questo articolo del quotidiano la città e poi il concorso di uno studente Terramano la miglior ricetta degli istituti alberghieri e poi dopo l'emergenza superate anche le criticità riscontrate a Cronialeto e Civitella del Tronto il servizio postale torna regolare in tutta la provincia di Teramo e poi siamo alla pagina della Val Vibrata perseguita la ex moglie condannato stalker di Martinsicuro non si rassegnava alla fine del suo matrimonio a Civitella il sindaco bacchetta la team per i ritardi negli interventi in basso controguerra i grandi vini abruzzesi alla conquista del mondo e poi di spalla in alto Nereto consiglio comunale rinviato perché convocato in maniera illegittima e poi blackout socialisti vibratiani contro l'Enel per le bollette arrivate già scadute siamo alla pagina di Giulianova Mosciano partiamo in alto dall'articolo che riguarda il palo della luce su una macchina il comune paga 5.300 euro di danni e poi bollette del gas era rassicura ai clienti per la società la situazione sotto controllo prevista la rateizzazione e poi in basso sbarca sui social network la richiesta di realizzare un polo nell'ex tribunale i genitori si mobilitano contro la scuola pomeridiana siamo alla pagina di Roseto Pineto Adresilvi partiamo da Roseto tutto pronto per ciclabile porto turistico incontro risolutivo fra amministratori rossetani e quelli della provincia e poi in basso a Pineto dopo sette anni l'area marina ha delle regole precise pubblicato infatti il regolamento che fissa i limiti e le competenze del parco del Cerrano e poi la polemica Monticelli vuole trasformare gli agri-camping in campeggi questa polemica che riguarda Roseto e poi la cultura Pomiglio la letteratura nella vita nel nuovo libro di Piermarino Guerlone una rilettura del romanzo di Pomiglio Natale del 1833 siamo allo sport si parla di Teramo in questo caso sul quotidiano la città a Fano c'è solo un risultato ultima chiamata per i biancorossi il Teramo e Zauli non hanno alternative o vincono o da martedì si cambia in attacco dubbio barbuti tempesti e con la prima pagina di sport del quotidiano la città dedicata al Teramo possiamo andare a vedere le altre pagine di sport che riguardano il centro ed il messaggero partiamo dal centro per parlare in questo caso del Pescara che domani giocherà alle 15 allo stadio grandi atleti grande Torino di Torino dunque contro i Granata in questo caso Pescara ci riprova Oddo rinuncia a Montari ma riabbraccia Memushai domani con il Torino il ganese in panchina il suo stato di forma non è al top torna il capitano dal primo minuto dopo i problemi familiari Girardino ancora K.O. oggi provino per Bayback vediamo anche grazie a questo grafico del centro le gare che si giocheranno fra oggi domani e lunedì in Serie A Napoli-Genua l'anticipo di ieri l'abbiamo visto in apertura di questa edizione di mattino 6 gara terminata sul risultato di 2 a 0 questa sera si gioca alle 20.45 Fiorentina-Udinese domani alle 12.30 Crotone-Roma e poi il resto del programma Inter Empoli Palermo-Atalanta Sassuolo-Chievo Torino-Pescara diretta da Maresca di Napoli Sampdoria-Bologna che si giocherà alle 18 Cagliari-Juventus alle 20.45 e infine il posticipo di lunedì sera allo stadio olimpico fra Lazio e Milan parliamo ancora di Pescara ancora di Pescara dalle pagine del centro in questo caso si parla della vicenda della brutta vicenda dell'incendio delle auto del presidente del Pescara Sebastiani ricostruite le mosse dei giovani piromani la polizia ha individuato gli spostamenti dei presunti tifosi che hanno bruciato due auto proseguono gli accertamenti ma i responsabili dell'assalto hanno le ore contate e poi tornando al calcio giocato abbiamo visto che nel Pescara ci sono dei dubbi che assillano Oddo per quanto riguarda l'undici da mandare in campo nel Torino Castane recupera Obi e Lukic titolari il Torino di Mijajovic però in crisi il 22 dicembre l'ultimo successo in campionato andiamo avanti Juve social scatenati contro Nainggolan ancora Beleni Inter si parla delle polemiche tra Inter e Juventus e poi Giaccherini e Zielinski tutto facile per il Napoli Genoa K.O nell'anticipo per 2 a 0 siamo alla pagina della Lega Pro Teramo Sansovini e l'arma in più per la salvezza grazie ai 7 gol segnati dal bomber sono arrivati i 10 punti Alfano prossimo avversaria avversario ha già fatto male e vediamo anche scusate come per la Serie A anche per la Lega Pro il Cirone B quali sono le gare che si giocheranno in questo turno Albino Leffe Parma Fano Teramo lunedì ore 18.30 Ferralpi Salomantova Lumezzane Venezia Modena Ancona Padova Gubbio Pordenone Maceratese San Benedettese Forlì Sant'Arcangelo Bassano Virtus Sud Tirol Reggiana e poi in basso vedete la Virtus Lanciano verso il concordato preventivo c'è questo articolo che riguarda la formazione Frentana debiti per oltre 10 milioni quasi 4 di crediti ecco la situazione della società dei Maio andiamo avanti si parla di serie di chiodi l'Aquila pensiamo a vincere Enesimo comunicato ieri questa volta da parte della società dopo le polemiche che c'erano state tra il tecnico Morge l'amministratore unico Ranucci il presidente invita tutti alla calma e a pensare ai prossimi impegni di campionato con l'obiettivo di cercare di vincere il torneo e poi invece ad Avezzano Sterpetti resta il main sponsor è stata sanata la frattura che si era creata tra il presidente Gianni Paris è proprio lo sponsor il main sponsor della società Bianco Verde dunque Sterpetti resta nell'Avezzano e anche in questo caso andiamo a vedere le partite che si giocheranno domani nel campionato di serie D partendo dal girone F fischio d'inizio previsto per le 14.30 Alfonsine Campobasso San Marino Fermana Vastese Matelica Civitanovese Monticelli San Maurese Pineto San Nicolore Canatese Iesina Romagna Centro Castelfidardo Bispesaro Riposa L'Olimpia Agnonese Girone G Albalonga Foligno Lanusei L'Aquila Città di Castello Sassari Arzachena Monterosi Flaminia Muravera Avezzano Nurese Ostiamare Rieti San Sepolcro San Teodoro Torres Trestina Proseguiamo con lo sport dalle pagine del centro eccoci qui si parla di rugby in questa pagina in basso l'Aquila tra 6 nazioni e pool promozione domani il 15 rosa contro l'Irlanda al fattore i neroverdi inaugurano invece la seconda fase di serie A parliamo di volley serie A2 l'impavida domani in campo contro Cantù per il primo atto della pool salvezza e siamo al basket le due abruzzesi del girone est si parla del Roseto con Amoroso che dice Roseto vuole i playoff e poi contro Forlì in campo con il nuovo arrivato piazza e poi Proger Chieti di Cosmo il presidente chiama a raccolta i tifosi insieme per la salvezza e poi parliamo ancora di pallacanestro Marzori rimette le scarpette per Sulmona e torna a giocare in C2 poi invece calcio a 5 domani in campo acqua e sapone e pescara vediamo gli altri sport palla a mano di Serie A farma più solo per la firma Teramo si gioca il derby invece palla a nuoto di Serie A2 e Serie B tutte in vasca oggi le pescaresi Gobbi a Padova per un rodaggio infine gli scacchi la Fischer Chieti ai mondiali in Iran ennesimo riconoscimento per la società teatina di scacchi rugby 6 nazioni azzurri c'è l'Irlanda e Paris si avverte ora basta errori si parla in questo caso del 6 nazioni maschile con l'Italia che affronta la formazione irlandese possiamo passare prima di chiudere alle pagine dello sport del messaggero pescara sarà rivoluzione 15 giocatori di proprietà del club nella rosa attuale ma molti partiranno in Serie B ci sarà un ringiovanimento globale torneranno dai vari prestiti Nicastro Selasi e gli altri ma avranno spazio anche i Bebi Rodriguez Coulibaly degli Carri e del Sole poi per il Rogo le auto del presidente Sebastiani misure cautelari in arrivo e poi si parla anche anche se se ne è parlato molto poco in settimana per quanto accaduto della partita di domani a Torino con la formazione Granata oggi ci sarà il provino decisivo per Bovo che tra l'altro è il grande ex di questa partita Lega Pro Teramo scelte difficili in attacco per Zauli conferma possibile per Tempesti il tecnico deve valutare anche le condizioni fisiche di Sansovini vediamo l'altra pagina di Sport in alto l'Aquila interviene la società pensiamo a vincere e poi ancora Serie D parla il patron della vastese Bolami che dice la squadra non può fallire i playoff e poi Piazza Roseto imparerò da full ne acquisto Rosetano parla delle prossime partite di campionato e poi palla a mano farm più a Nonantola per allungare la serie gli angolani cercano il sesto risultato utile consecutivo la Globo addosso buono prova a risalire la classifica e poi Pescara sfida le campionesse il club acquatico ci riprova questi gli impegni delle formazioni pescaresi di pallanuoto e poi Pineto il presidente suona per i rivali prima della gara calcio e fair play a Pineto e poi invece per quanto riguarda il campionato regionale di promozione maltempo e ordine pubblico hanno portato al rinvio della gara Tossicia Giulianova siamo così giunti al termine dell'edizione di oggi di sabato 11 febbraio di mattino sera la nostra consueta rassegna stampa che tornerà puntuale lunedì alle 7 per quanto riguarda come sempre i prossimi appuntamenti informativi della giornata vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 grazie allora per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti